Non arriveranno i 5 già annunciati milioni per rimettere a nuovo le scuole Fiorentino e Marconi a Batipaglia, che non rientra nella graduatoria del Ministero per accedere ai fondi. Su oltre 5.000 progetti presentati, sono solo 146 le istanze accettate che beneficeranno del finanziamento dei primi 150 milioni erogati. Ieri la sindaca cecilia-francese in compagnia del neodeputato Federico Conte è stata ricevuta dai funzionari del Ministero. Ho chiamato l'Anci Campania per rappresentare questa anomalia, ha spiegato in un'intervista al quotidiano La Città. Per ora le scuole dovranno accontentarsi dei 400.000 euro di fondi comunali.